Dai, però è diventata buona, magari. Può aiutare qualcosa, chi lo sa. Ripeto, ogni scelta influisce molto su quello che accadrà dopo. Red Room. Stop them, Bigfoot. Eccolo che corrono. Oh, oh, oh. Oh, che è? Oh, Victoria, dami un f***o break. Posso entrare dentro, non vedo? Pie, torta, non posso dire io. Pi greco, 14 pie, ah, pi greco, non più, pie. Che persino è una torta, ma posso? Brooks. Eh, sì. Allora, qui c'è Vittoria, abbiamo un bambino. Oh, Victoria, dami un f***o break. Will bang for Jesus. Do sta la stanza? Shower, dolce, no, grazie. Ok, sono dentro del campus, bedroom. Juliet. Taylor is a slave. Room 217. No way in hell am I ever going in here. Perché? Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Juliet, extreme reporter. Sì, ma no, mia stanza, scusate. Sarà questa? Ok, this is just mean and stupid. Peace, peace and love. Ok, mi fa trovare qualcosa di buono. Ah, ecco la stanza di Max. Non si può far capire però altre scritte, magari, appunto, influiamo sulla storia in maniera decisa. Qua non si può fare. Qua neanche. Ok. Sì, ok, lo so. Non ci vuoi dare. La nostra è qui. Ma dove sto? La mia stanza è qui. Quello che è morto. Ah, no. Eh, sì. Dove sta la stanza? Ma la sono persa. Ah, di qua. Ok. Ah, eccola qui. Eh, scrivi... Fotografia di la vita. Max, triste, faccia triste. Ok, adesso si autofisce faccia triste. Che bello. Sad face. Meraviglioso. Ok. Ok, lì c'è le nostre fotografie. Via il cuscino. Ma dov'è entrare a pen drive, quel ragazzo lì, a Warren, no? Ok. Mi sento svegliare, fresca. Dai, mi sono ripetuto in poco tempo. Mamma. Che vuole ora? Ciao, da solito. Vedi, mi hanno scritto un'emozione. Io non ho provato. Ho detto come... Ah, si è tagliato. Ma per favore. Ma per favore presi. Non per la mano, ma per presi che è davvero... odioso. Mi posso cambiare? Ma per i biscotti. Eh, sì. Maxine, special day, your mother and father. Kiss kiss. Ok. C'è un biscotti, penso. I love that mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. No, cocco, no, grazie. Anne slipped in a two hundred dollar gift certificate. She sure knows how to make a sad birthday happy. Lasce il libro. Instant film is so damn hard to find and expensive now. Eh, sì, ricapisco. Instant film is so damn hard to find and expensive now. Ma vuoi il libro, non... Ma non posso aiutare, sono analogue, non digitale. Una volta organizzare la mia collezione film. Una volta prendo un'attuale HDTV. Va bene, ok. Sono così adeguata a questo sito. Guarda queste bellezza vantagliette. Si, sembra che Dain mi lasciò un po' di post-it note. Allora, per esempio, la tua gavetta è volete vedere qualche film in del studio. Ok, c'è la della gavetta. Perché Dana le rompere le scatole? Ma letta te. Ma che è Fremont Troll? Ok, lo sacchiotto, no, vuoi vedere lo sacchiotto? Oh, hey, Capitano. At least, I know you've got my back. Quando ho spazzito i tuoi occhi e i miei parents mi riuscirono all'ERA, I knew we were... Hard to believe I'm 18. So, I look at me older? E' che è tanto, appunto, come con Chloe, gli piacevano i pirati, quindi... Oddio, quale è Dana? Non puoi arrivare ora, Dana. Quindi, dicami la verità, è rotto in là. Oh, no, cavolo. Quindi, dicami la verità di questo, dicami. Welcome to the real drama queen's of Blackwell. Oh, Juliette, this is so stupid. Hey, Juliette. Is everything cool? Oh, yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. You are ridiculous. She's your friend. Friends don't sex with their best friend's boyfriend. No, probably not. If you don't let me out... How did you find out? Uh, why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. Perché va bene, per entrare in una stanza, Dana. Riavete. What's my last name? Juliette... Eh, come si chiama Juliette? Non me ricordo. Parson, Mason, Olson, Watson. Juliette Watson. Uh... I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. I don't even think you knew my name at all. I don't even think you knew my name at all. Of course I do. Just because I don't talk a lot doesn't mean I don't care. So, how did you find out about them? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Oh. She saw the sext. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything. But I bet Victoria did. I know that the crew is in her room. Vabbè, si, è in una stanza Vittoria. Oh. Uh. Bella stanza, tutti quei red. Eh, Vittoria, perché stai così? Oh, che da una fotografia? She's actually got a classic medium format camera with some awesome prime lens. Sì, 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 esatto. Vabbè, Vittoria. No, officer, I'm not snooping. Just a... Vabbè, la tablet. Oh. Eh sì. 3.100 dollari vuole prendere quella. È bella vita. Allora, portatile. Andiamo a postare qui. E come stampo, scusi. Lei ha messo le foto, non si riesce a niente. Ma come posso... Ok. Posendo la stampante. Non si vede niente. C'è una scomparsa. Victoria è una vera Jefferson Brupi. No, vuoi vedere lì, 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 là che ha scritto lei su... Mark Jefferson, noi foglietta, dammi il poster. Il poster, brava. Victoria hate Rachel Amber this much? How insecure. Eh sì. Dove sta la stampante? Eccola qui, la stampante. Eh, come posso... Mi fai stampare tutto, per favore? Sì, lo so, ma... Eh sì, ma come stampo tutto? Allora. Devo stampare. A stamattina neanche si vede. Che bello. È fantastico. Eh sì. Eh sì. Ecco, è che si sta vendicando. Ma... Come potrebbe stampare? Sì, voglio stampare. Sì, ma... Come faccio? Sì, ok. Ho queste cose, ma... Come stampo qui? Non mi fa vedere. Eh sì, concordo. Sì, c'è proprio da farci raccomandare, bravo, però. Io vorrei far stampare quella maledetta email. Che non mi dice niente. Devo collegare o fare qualcosa. Sì, lo so. Adesso devo stampare da qui da qui. Devo stamparla e uscire subito da qui. Ma non mi stampa. Come stamperà questa maledetta foto? Devo collegare o fare qualcosa, non lo so. Adesivo, gioielli... Sì, ma tutto questo come faccio a uscire? Non devo uscire. E qui come la sua unica, quello, eh? segreste opere. Però come capo posso stampare quelle mail? Maledizione. Non mi dice niente. I mortacci. Sì, le belle foto che ha fatto lei. Lunedì. Bello, sì. Bellissimo. Ma io voglio stampare quelle mail, se è possibile. Allora, sì. Amici iscritti. Oh, bella famosa. Boom. Sì. Questo è l'email che ho bisogno di mostrare Juliet. Ora ho bisogno di stampare questo veloce e riuscire da qui. Sì, ma come stampa? Come stampa la maledetta foto? Dove se dice boom, boom. Tornata l'ha detto. Boom. Giornata. Io esco. Allora, ecce. E rientro. Così, di cattiveria. Perché poi me ne frega niente. Lei è fuori, sta pulendo la vernice. Ora boom, eccola qui. Boom. Questo è l'email che ho bisogno di mostrare Juliet. Sì, ok. Ora ho bisogno di stampare questo veloce e riuscire da qui. Sì, ma come stampo? Sì, ok. E non so come poter stampare questa foto, maledetta. La stampata non si muove, non si accende, non fa niente. Ok. Ok. Molto difficile, io ho questi e me qui. Ok. Non mi accompagnano i tasti, porca miseria. Prendi qui. Piglia, piglia. Ci fa qui. Dalla in poi so che quando c'è da fare qualcosa, devo prendere altri tassi, che non sempre appaiono. Però sì, abbiamo l'email. Quindi possiamo salvare Dana dalla rabbia di Juliet, in qualche modo, sperando. Eh, calma però, amica mia. Juliet, legga questo. E' mo'? Oh sì. Of course. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? Vai così Dunque grande è Dana che si fa offrire la scena E la si può cado Solo perché sta lì Per un po' di minuti Penso all'ora un poco Qui diverti Fai perdere i soldi Baci Logan E che sto Logan Eh piglia piglia Uuh i sei anelli Eh si milla amici Ok proprio una chiavetta Lei lì si può fare le cavallonci Noi siamo qui in sostanza Lei non dice niente Eh si abbastanza dura Dramatica Anche Vittoria Perché tutto Calma amico mio Ok Ok Posso salvare lei E come fa la squadra Guarda Guarda E se Vittoria Grazie ma non siamo amiche Eh che vuole da me Scusami Ma chi ti conosce Io te l'ho solo Consato perché mi facevi pena Perdente O che succede Che succede Ma perché c'è con lui Intervieni dai così cattiva Ma difendiamo la nostra amica Eh si è toccando Eh si ma tu quel cavallonci Ma che sei Ma che sei scusami Oh Max E' stato fantastico Credo che l'hai scusato Per una volta Ho bisogno Ma grazie Significa molto Qualcunque Qualcunque Kate Mi sento come un ero quotidiano aiutando Kate Ma ora il servizio David Dickhead E' dopo me Magari dovrei riuscire E prendere la mia propria business Ma no così Scusami ma che stasera mi faccio i fatti miei La salvo dai Allora Allora fai fuori Andiamo po' che succede Non puoi farmi Svevo tutto Questa scuola Covero la fronte Allora Hai migliorato Quali strada sei Scusami Eh proprio si Cioè lei non c'è amica Lei sente molto più sola Ecco vedete Scusami 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 Va bene Meglio così Che Kate mi spori una ragazza Fanno sentire Quelli ci va così Di petto Oh 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 Ma che importazione è questa? Ma l'hai messa lei? Non mi sembra Non mi sembra Comunque c'è qui Andiamo a parcheggio Ci diamo pure la gavetta Siamo tutti tranquilli e felici Ecco Ecco lei che fa tutti i fili Scurra Ah Si 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 Ah Ecco guarda qui Juliet ci vediamo Max povera ragazzo dentro il zaccato dove ne vedi i fondelli che c'è qui dar cosa sarebbe scusami povero Samuel lo fanno lavorare come uno schiavo quello è un genio no non ti guardo eh si oh ma poi lei sa che lo so che fino a me ha fatto io sei bloccato cosa sembra c'è a mensa aria cool molto vecchio 1978 per essere esatto ora possiamo andare al drive-in c'è uno a Newburgh, solo 60 km tu sei in un certo tempo Warren ma poi so tu sei tu sei non 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 si grazie che non voglio non 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 ma ma non E tutto non penso E mi insulti E direi It's like a movie Max Caulfield right you're one of the Jefferson photo groupies and one of his students What the yeah, I know you'd like to take pictures especially when you're hiding out in the bathrooms You best tell me what you saw now Answer me bitch porra Eric gogeo parlando What are you talking about I know you're new here, but don't even play stupid with me Non sono nuova, ho vivuto qui per anni allora dovresti sapere che i prescotti questa roba allora non dovresti preoccupare di me, preoccupare di te stesso non mi analizzare! ho pagato le persone per questo preoccupare di te stesso, Maxconi potrei ringraziare la polizia le prescotti i figli qui non! è che immaginavo ehi, lasciatelo solo! nessuno mi dice cosa fare non c'è i miei parenti? con questo uomo nel bambino Max? Chloe? guarda! tu di nuovo! vai, ho capito! no Warren! no Warren! che dottore! non provi a riuscire! nessuno! 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 ma questo è un po' pazzito da prima ora è un po' pazzito! non provi a riuscire!